Questo è Kendal, o almeno sembra Kendal, non so se è il vero Kendal o meno, però vediamo un attimo, mi sta dando un libro e vediamo un attimo cosa vuole, costruitemi una casa, muovetevi, aia e mi ha dato pure un pugno, ok Nick, forza dobbiamo... E' cattivo questo Kendal! Sì sì sì, dobbiamo prendere immediatamente del legno, immediatamente, veloce, stai super... E però si prende il legno! Eh, si scava, idiota! Però, scusa un attimo... Ma non so scavare, scusa! Come non stai... dove sei, dove sei? Allora però... Ho imparato del legno ora, ho imparato a scavare in poco tempo! Scusa ma la casa... no, mi sta tirando le frecce, però mi sta facendo i nervosi! Allora, aspetta, io mi sto rendendo conto che forse è troppo per prendere del legno, non abbiamo i materiali già pronti? Eh, andiamo a rubare da Bride, scusa! Da Bride, hai ragione, forza, andiamo, 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 andiamo! Allora, corri, corri! Allora, qua ci dovrebbero essere tipo le sue casse fuori, ma dove caspita tiene tipo il legno e le cose che non mi ricordo? Eh, forse in casa, non mi ricordo più! Ok! O intanto ero andato a rubare da lui! Ok, l'importante è che tu non rubi troppo, cioè... A volte rubare potrebbe essere... Ok, no, va bene! Ho trovato, ho trovato! Ok, la madonna, ma quante cose ha? Cioè, è un pazzo! Allora, prendi, prendi tutte le cose... Ah! Ah! Ah, mi si permette? Aiuto! Scusate per questi... Per questi urletti veramente da... Aspetta, aspetta, scusa, scusa, Kendall, devo prendere... Aspetta, aspetta, vediamo un attimo! Ah, rubate? Non si fa! Non accetterò mai una casa con dei materiali rubati! Scusate, no, sto per morire! Figlio! Sto per... È un pazzo, è un pazzo! Raga, è un... Cioè, non il vero Kendall, perché... Ma dico... Cioè, non so se questo è il vero Kendall, non credo proprio, perché se... Cioè, come caspita, fate entrare... Però aspetta che io non riesco a scendere! Come si fa a scendere da sta casa, perché... Eh, buttiamoci giù! Ok, se no... Vabbè, ok, scendiamo! Allora, ho un'idea per la sua casa! Costruiamola sotto... Tipo, vieni qua con me! Facciamo un buco uno per uno, scusa! No, ma che buco uno per uno? Deve essere un po' un bucchetto più... Sì, spiega! Più ampio! Fammi una pala, veloce! Perché sta cagando? Eh, tieni la pala! No, aspetta! Tieni, tieni! Sto morendo! Aspetta, aspetta! Prendila! Non riesco! Non riesco, Nick! Aspetta! Vai, vai! È dietro di te, è dietro di te! E dov'è questa pala? Dio Svizzero! Vieni qua! Oh! Non ne posso più! Per una pala tutto sto tempo! Ma che cavolo! E dov'è sia droppata! Allora, andiamo sotto! Cerchiamo di scavargli un bucchetto così! Non sta seguendo sto coso! Non è buono che ti sia seguendo! Allora, facciamogli così! Allora, praticamente... Qua ci sono delle torce! Ok, mettiamogli le torce! Sennò non vedo più un cappero! Non ce l'ho le torce! Dammi tipo la cobblestone! Mettigli al posto del... Allora, tu al posto della terra mettigli la cobblestone! Veloce! Prima che sto qua ci ammazzi! È una speedrun! È una speedrun! Non è una pietra! Ora ce l'ho! Arrivo! Come non è la... Sei... Madonna! Donna, un giorno di questi io ti giuro mi vendico di te e ti vendo al mercato della strega! Abbiamo finito! Ho scritto a Kendall! Sì, ma questo qua mi fa paura! Dietro di te, attento, attento! Siamo attenti per carità! No, perché... Perché la TNT non deve far esplodere? Non lo so, non lo so! Oh, no, 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 non deve far esplodere! Io io picchio! Via e fugo! È una casa costruita con tanto amore! Ok, vediamo un attimo il libretto che mi ha dato! No, no, no! È appiso la TNT! No! È appiso la TNT! No! Dov'è il libretto? Dov'è il libretto? L'hai preso tu il libretto, spero! Io ce l'ho io! Ok, dammi il libretto! Aspetta, 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 aspetta! No! Fermo! Vieni con me! 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 Dove sei? Vieni qua! Vieni, arrivo! Vieni, dammi il libro! No! Dammi! Mi ha rubato lui! Ok, aspetta! Lo picchio! Ora va meglio, grazie! PS non sono Kendall! Scusami? Sto schifoso! Ma chi è? Ma è uno col disguise! Aspetta, aspetta, aspetta! Slash hand? È lui? Non ho capito chi è, raga! Scusami! Veramente non ho parole! Hand player? Chi è? È lui! Schifo! È Bridla! È Bridla! Non ti... Sarai, sarai punito in... ...prigione! In prigione! È finito! Basta! Sono stupo! Ciao! Non ci porto a casa prima! Ciao! 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 Ciao!